Sono nato a Faenza e sono un romagnolo doc. La tavola per me è sempre stata un luogo in cui gustare i sapori della buona cucina. È proprio dal piacere della tavola e dall'importanza che la nutrizione è per me che nasce la passione per il mio lavoro. Un amore che mi ha portato a ideare il mio metodo per un'alimentazione facile, applicabile e per sempre. Io sono Jader Fabri e questo è A Tavola con Jader. Inviterò ospiti speciali per parlare di benessere psicofisico, di longevità, di strategie, di body hacking, di cambiamento delle proprie abitudini e del piacere di concedersi l'amato jolly. Il mio è la piadina. Oggi a tavola con Jader abbiamo Martina Colombari, attrice, conduttrice, poi potremmo aggiungere alla lista, infinita. Ma perché siamo a tavola con te e non c'è niente da mangiare? Perché io trovo che nel dialogo comunque ci si arricchisce e anche ci si nutre di informazioni interessanti. Sono d'accordo, mi sei piaciuto. Mi sono salvato in corner. Soprattutto io sono molto felice di averti qui a tavola con Jader perché sei una romagnola come me e quindi questo è un plasso incredibile. Noi romagnoli, vabbè, siamo un po' presuntosetti, però abbiamo una marcia in più. La nostra terra e io dico sempre che se non fossi stata romagnola forse non sarei arrivata dove sono arrivata perché la curiosità, la vivacità, la tenacia, il prenderci cura anche. Insomma, in Romagna a Riccione non avevamo un gran mare anni fa e siamo riusciti invece a trasformare la costa adriatica, io dico sempre una sorta di una Miami in piccolo, Riccione, no? Un'attrazione turistica importante. E quindi attraverso le piadine, attraverso un po' di Raul Casadei, insomma, abbiamo portato a casa degli ottimi risultati. E penso questo nella nostra capacità appunto di accogliere l'ospite, di farlo sentire bene a casa e di riuscire poi a dare quel valore aggiunto che lo fanno proprio le persone, gli autoctoni, i locali. Beh, poi si mangia bene sicuramente in tutta Italia e l'Italia è conosciuta in tutto il mondo per il buon cibo e abbiamo insegnato molto anche a tutto il resto del mondo. Devo dire che sono un po' di parte e siamo un po' di parte, ma sicuramente tra l'Emilia e la Romagna, insomma, si può dire che è un po' la cucina dell'Italia. Beh, ci sono tante eccellenze, proprio come anche materie prime. Sì, la fun valle. Esatto, ma anche come chef, anche come innovazione su tutto quello che è l'aspetto dello stile di vita sano, a partire dal movimento piuttosto che alla cura nell'alimentazione. Quindi, secondo me, siamo a un buon punto. Quando si parla di cibo, io di solito faccio sempre una domanda ai miei ospiti di Tavola con gli Ader. Allora, io parlo anche di jolly, quindi in Romagna noi siamo abbastanza conosciuti per il cibo della festa, quello che ci piace mangiare nel momento di miglior convivio. Tu hai citato il mio preferito, che è la piadina. Quindi per me i jolly sono quelli che noi andremo a mangiare nel momento appunto del convivio. I carboidrati ad alto carico glicemico, il pane, la pasta, le patate, la pizza, la nostra amata piedina. Qual è il tuo jolly preferito? Allora, ne ho due, nel senso che se sono in Romagna sono le lasagne verdi. Sobria, leggera. Sai che io non le ho mai mangiate. No, vabbè, non ti sei perso. E invece se sono, vabbè, a Milano, comunque la pizza. E quello che hai detto tu, il cibo jolly è comunque sempre legato al carboidrato. È spesso legato anche al latticino e al pomodoro. Nel senso che comunque è una pasta col pomodoro fresco e basilico con una bella grattugiata sopra di parmigiano. Cioè, quel sapore lì è come se facesse parte del nostro palato. Ce l'abbiamo dentro, come quando senti l'odore del pane, cioè, difficilmente uno ti dice l'impeppata di cozze. Cioè, difficilmente ti dice un'orata al forno. È impossibile. Esatto. È proprio quel sapore lì che viene proprio già la colina in bocca, no? Al pensiero, la memoria emotiva. Stai aumentando la mia salivazione. E probabilmente anche la mia glicemia. E io mi tengo monitorato anche la glicemia. Ma in realtà stai dicendo una cosa correttissima. I carboidrati ad alto carico glicemico che tanto ci piacciono e non sono da demonizzare. Una frase spesso che io dico è non è demonizzare, ma è sapere come fare, che fa la differenza. Quindi, i carboidrati ad alto carico glicemico ci danno un po' di dipendenza, perché comunque stimolano fortemente molti nostri ormoni, in primis l'insulina, ma poi anche la gratificazione, anche di un'attesa, perché tu quando vai in Romagna e sai che ci sono questi cibi tipici... che mi aspettano... che ti aspettano, hai un innalzamento della dopamina generato dall'attesa. Certo. E quindi... Dal desiderio e dal piacere. Esatto. Più che magari anche nel momento stesso che te lo gusti, che ti gratifica anche da un punto di vista mentale poi. E comunque io sono abituata a prepararmi un piatto unico. Lo chiamo... Sì, c'è chi lo chiama piatto quadro, piatto... Nel senso che nel mio piatto ci sono tre tipologie di cibo. Carboidrati, proteine e verdure vegetali. Ok. Sia a pranzo che a cena. Quindi la proteina cambia. Io mangio pochissima carne, né bianca né rossa, quindi diciamo che la mia proteina sono più proteine vegetali, sono legumi, sono formaggi, uova. Pesce lo mangi? No, non mi piace molto. Eh, lo so, faccio fatica. Riccione sul mare, insomma. Eh, lo so. Poi ho visto un po' di documentari che mi hanno un po' sconvolta e quindi... Ecco, se vado... Se sono a cena da mio padre che l'è andato a prendere al mattino dal suo amico pescatore, lo mangio. Se deve essere d'allevamento, evito. Certo. E quindi la dose di carboidrati che c'è sempre nel mio piatto può essere grano saraceno, può essere riso integrale, riso rosso, riso nero, piuttosto che farro, orzo. Se mangio la pasta la mangio di legumi, però una dose di carboidrato c'è sempre. Facendo poi attività fisica cerco comunque anche di darmi una sorta di fabbisogno, no? Giornaliero. per poter poi gestire la giornata. Beh, allora, intanto hai già fatto un ottimo riferimento che è quello di cercare di mettere un po' tutti i macronutrienti all'interno dello stesso pasto. E questo è già una buona soluzione, una buona strategia. Poi comunque tu sei l'emblema di quello che fai e quindi quello che stai facendo probabilmente è perfettamente giusto. Per me però. Soprattutto per te. Certo. Chiariamolo subito perché non voglio fare la maestrina. Quando ti porto questi esempi è di quello che io metto in atto avendo studiato come il mio corpo assimila determinati alimenti quindi quello che serve al mio corpo, alla mia routine quotidiana, al tipo di vita che io faccio. Ma non voglio dare né suggerimenti, né consigli, niente di tutto questo. Quello che tu fai in realtà è corretto perché metti tutti i macronutrienti, immagino che in questo piatto non manchi l'olio. Assolutamente. che i grassi rispetto a un tempo venivano demonizzati. Oggi io devo dire che le cose sono cambiate moltissimo. Anche i grassi saturi non sono più così demonizzati. Esiste uno studi scientifico che dal 2010 al 2021 ha tenuto monitorati tutti gli studi scientifici riguardanti grassi saturi e problematiche cardiovascolari e non ha avuto una correlazione. Quindi vengono un attimo tolti dalla black list. invece oggi stiamo sempre più attenti in nutrizione a quello che sono gli oli poli insaturi che magari subiscono delle lavorazioni a livello industriale molto elevate. Invece il nostro buon olio d'oliva è assolutamente da utilizzare senza nemmeno sapere i conteggi vari. Quello che forse dobbiamo tenere d'occhio è più il sale e gli zuccheri. Allora sul sale sì ma quando viene anche questo addizionato perché non è tanto il sale che una persona utilizza nel proprio piatto perché quello lo controlli è vero anche che in relazione al sale che tu metti nelle tue pietanze ti abitui a quel tipo di sapore perché noi il nostro palato si abitua ai sapori più forti sono più dipendenza sento tutto salato ad esempio perché probabilmente a casa uso pochissimo sale esatto il problema stesso potreste averlo sulla parte zuccherina e quello oggi è veramente una problematica diciamo pandemica lo zucchero crea dipendenze e quindi te lo mettono ovunque anche dove non te lo aspetteresti ma certo anche nello yogurt che nell'etichetta tu leggi yogurt 0% di grassi questo e quell'altro naturale e poi scopri che invece c'è addizionato beh anche a volte esistono delle normative che poi hanno qualche deriva e qualche falla che possono permettere di non mettere il saccarosio ad esempio però posso usare altri tipi di zucchero che non sono chiamati zucchero in etichetta tu ti ritrovi sotto forma di concentrato o succo d'uva che la percezione del consumatore finale è una percezione più salutistica ma la molecola è sempre ci cerca 12 o 6 è sempre lei quindi è assolutamente vero quello che dici e in più considera il fatto che noi ci abituiamo a questi sapori forti e li andiamo poi a ricercare che questo è un problema oggi che ha generato questa tra virgolette pandemia di obesità sovrappeso malattie beh dovremmo iniziare tutti a capire che la salute deve venire prima di tutto e che per salute ma lo dice anche l'organizzazione mondiale della sanità che il termine salute non coincida non malattia ma significa riuscire a vivere in salute in benessere vivere bene e quindi seguendo un certo stile di vita mettendo in atto determinate scelte abbandonando abbandonando anche quel tipo di abitudini che un po' per tradizione ci siamo portati dietro proprio come dicevi tu anche per evitare quelle che sono malattie anche legate all'ipertensione legate al diabete insomma ci sono tante tante situazioni che noi possiamo condizionare attraverso un certo stile di vita perché è vero che la genetica fa la sua parte e quindi quella non la puoi cambiare e quindi quella è ereditaria detto questo una volta che il DNA ti dà determinate informazioni le altre sono legate alle scelte che noi facciamo a quello che noi mettiamo in atto allo stile di vita alle nostre abitudini e quindi quanta attività fisica facciamo il modo in cui ci nutriamo quanta cura anche portiamo alla nostra persona quanta attenzione abbiamo no? perché lo stiamo un po' trascurando il nostro corpo assolutamente vero trovando mille scuse banalissime e tante scelte veramente possono condizionare quello che è il nostro futuro la nostra longevità che anche lì per longevità non si intende avere meno anni sulla carta d'identità avere meno rughe quando ti guardi allo specchio significa poter vivere più anni ma in salute a me non me ne frega niente di vivere fino a 95 anni se devo avere problemi alle ossa problemi alle articolazioni problemi al cuore ipertensione il diabete il colesterolo la glicemia cioè così non è vivere io voglio vivere sana assolutamente quello che dici è assolutamente vero e sono tutti argomenti che appunto io tratto oggi sempre di più anche nella mia pratica clinica perché quello che tu racconti delle abitudini sono questi che hanno portato a queste problematiche sociali noi dobbiamo cambiare le nostre abitudini e soprattutto dobbiamo trovare nuove strategie per una nuova società perché la nostra società è cambiata e non possiamo continuare a pensare che delle strategie o regole vecchie o tecniche dietetiche vecchie possono essere utili a questo tipo di società che ha stimoli totalmente diversi hai parlato benissimo e si vede che è un argomento che tu riesci a nel quale ti riesci a districare molto bene e non è cosa semplice la nostra lunghezza della vita è aumentata negli ultimi 20 anni devo dire che c'è un'inversione di tendenza negli ultimi 4-5 anni quindi anche sulla lunghezza della vita non è più sempre in crescita ma soprattutto una cosa che pochi dicono è che è vero che la lunghezza della vita negli ultimi 20 anni è aumentata ma la qualità della vita che tu fai negli ultimi 15-16 anni della tua vita è peggiorata quindi come dicevi tu cioè un conto è parlare di lunghezza della vita in salute o longevità sana un conto è parlare di durata della vita senza considerare che gli ultimi 14-15 della tua vita poi starai male o conclamerai una malattia quindi dobbiamo cercare di capire delle strategie da giovani prima che si può allora ci potremmo trovare a goderci anche quella che viene chiamata terza età o io chiamo anche per educazione la parte più esperta della nostra vita allora quella secondo me è una buona strategia perché poi è un modo anche nuovo per godersi un momento positivo sì e poi dobbiamo ricordarci sempre che il nostro corpo è spesso infiammato di base certo è spesso intossicato di base e quindi anche stando attenti figuriamoci non stando attenti assolutamente sì ne parlavamo insomma del glutatione questo integratore che io ho iniziato ad inserire nella mia routine giornaliera piuttosto che il magnesio piuttosto che la vitamina C la vitamina D per il discorso dell'osteoporosi cioè ci sono tanti integratori le crucifere che ci aiutano a ripulirci che ci aiutano a togliere quello stress ossidativo che è quella ruggine che si crea e che si trasforma in tossine e quindi non è solo un invecchiamento di pelle cioè è un invecchiamento anche interno e non ce ne rendiamo conto di quello che avviene dentro di noi perché noi siamo fatti insomma la mente il corpo ma poi c'è uno spirito c'è un'anima cioè siamo fatti da tanti pezzi e siamo una macchina secondo me il corpo umano meravigliosa apparentemente perfetta ma che ti dà dei segnali che tu devi saper cogliere anche no? e non facciamo mai i tagliandi no non andiamo a fare i tagliandi dovremmo avere un qualcosa che ci ricorda ma sai bisogna che ogni tanto ti fai dare un'occhiata e poi comunque mangi bene non ti puoi rendere conto solo quando stai male solo quando c'è il campanellino finale l'allarme che suona il corpo nel lungo periodo non dà più cioè le persone che hanno una grave obesità o un grave sovrappeso non ricevono più i campanelli d'allarme cioè tu hai detto una cosa corretta prima la genetica in realtà incide su di noi pochissimo 10-20% oggi quello che noi trattiamo molto che viene chiamato tecnicamente o fenotipo o ancora più l'esposoma è tutta la parte che riguarda il nostro stile di vita cioè tu quello che fai tutti i giorni e io lo so lo vedo quindi è tipo l'epigenetica cioè lo sport che tu fai anche l'ambiente dove vivi l'ambiente in cui vivi l'aria che respiri i rapporti che hai interpersonali quindi il momento di convivio gli scambi di informazioni come quelli che stiamo facendo noi incidono sulla trascrizione genetica io direi che il tuo stile di vita però io ti seguo ci conosciamo eccetera direi che è perfetto cioè la tua giornata è l'alimentazione abbiamo capito che uno ne sai molto e si riscontra facilmente da quel che dici sai anche delle abitudini e poi c'è la tua attività fisica tu tutti i giorni ti alleni io sì cerco di mettere il mio corpo in movimento non amo gli sport di competizione perché è più una disciplina il mio allenamento nel senso che è un momento che io prendo per me per stare con me stessa e quindi che possa essere all'aria aperta che possa essere in palestra con un trainer che possa essere girotonico che possa essere yoga però cerco comunque di muovermi perché dopo mi sento meglio riesco ad essere molto più produttiva riesco a essere molto più focus sul lavoro mi stanco meno per assurdo cioè se arrivo sul lavoro dopo che mi sono allenata riesco ad essere molto più performante più lucida e e poi ormai lo faccio da una ventina d'anni quindi è un'abitudine che che fa parte di me se tu pensi che i nostri antenati facevano più di 30 km al giorno noi non siamo capaci di fare due rampe di scale insomma ma anche perché tanti spostamenti li possiamo fare a piedi invece che prendere l'automobile insomma ci sono tanti piccoli accorgimenti che possiamo fare che fanno bene non solo a noi stessi ma anche all'ambiente che ci ospita assolutamente e quando parli di fare bene a noi stessi tu adotti un'altra strategia secondo me vincente che è quello di essere impegnati nel sociale tu fai molte attività nel sociale e questo spesso è una cosa che nutre noi stessi oltre a quello che noi facciamo per gli altri e anche questo è collegato a quello che è la longevità tu sei molto impegnata nel sociale io sono testimonial e sono volontaria ormai da tanti anni per fondazione Francesca Rava noi ci occupiamo di infanzia quindi tutte quelle problematiche legate ai bambini in Italia e nel mondo e sono arrivata in Haiti dove abbiamo tante attività perché siamo un grande punto di riferimento per la popolazione haitiana abbiamo creato degli ospedali abbiamo creato delle scuole degli orfanotrofi portiamo avanti dei programmi di distribuzione di acqua cibo negli slam e poi abbiamo tante attività anche qua a seconda delle emergenze quindi quando ci sono i terremoti quando c'è stato il covid con gli sbarchi nel Mediterraneo insomma cerchiamo di essere presenti non solamente all'estero ma anche quando il territorio ci chiede aiuto insomma e come dicevi tu io dico sempre che il volontariato in primis egoisticamente aiuta e fa stare bene noi perché se impariamo a prenderci cura di noi stessi saremo anche in grado di prenderci cura degli altri e infatti io ringrazio sempre Maria Vittoria Rava che è il nostro presidente perché mi ha mi ha aperto gli occhi su su una realtà che io proprio non conoscevo non ero stata abituata da bambina se non a lasciare la scatolina per i missionari dopo la messa a Natale e a Pasqua e invece ho scoperto di quanto sia importante aiutare gli altri quanto proprio noi continuiamo a parlare di sostenibilità ambientale quando non abbiamo capito che la sostenibilità prima deve avvenire fra le persone la connessione l'aiutarci il prenderci cura degli altri è da lì che possiamo pensare di avere un mondo e di lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo di noi però se prima non parliamo dell'umano all'umano si farà veramente fatica e quindi insomma devo dire che le attività che facciamo sono tante una delle ultime è stata fatta a novembre in farmacia per i bambini dove tutti i rechi in farmacia acquisti un prodotto legato all'infanzia invece di portarlo a casa lo lasci ai nostri volontari e noi lo devolviamo a vari centri centri di comunità per bambini di comunità mamma bambino nelle carceri minorili insomma devo dire che anche questa è una bella attività semplice perché insomma si tratta semplicemente di recarsi in farmacia acquistare un farmaco però insomma siamo arrivati all'undicesima edizione quindi vuol dire che facciamo le cose per bene beh di questi tempi non è scontato una cosa scontata quindi complimenti e in più ti ringrazia anche probabilmente la tua genetica alcune curiosità che invece mi chiede ad esempio la mia community io ho una community anche ristretta al di fuori di quello che è il marasma tu sei bravissimo io non so come fai mi impegno abbastanza beh sono romagnolo certo quindi in questo facciamo il possibile nell'impegno io ho una community che appunto mi fa alcune domande per i miei ospiti che io un po' diciamo spoilerò antitempo e una iscritta a questo mio canale questa mia community riservata che si chiama Zenzero Limone mi dice ma qual è il tuo segreto di bellezza non c'è un segreto di bellezza c'è un rispetto di quello che madre natura o mamma delfina e papà maurizio mi hanno dato e che quindi devo onorare e appunto e e curarlo perché questo è stato gratuito quindi io non ho nessun merito che poi io l'abbia trasformato in un talento o comunque in uno strumento valorizzandolo esatto per fare un certo tipo di carriera e quindi come segreti il segreto è uno stile di vita uno stile di vita che va dall'alimentazione all'integrazione all'attività fisica alla mindfulness è un insieme di atteggiamenti e di scelte perché alla fine sono scelte che dipendono da noi perché io tante volte non so più in che lingua parlare alle donne alle ragazze che mi fermano per strada alle mie amiche ma come fai ma vorrei avere anche solamente un 10% della tua forza di volontà ma dove trovi il tempo sono tutte scuse e cazzate che noi ci raccontiamo perché comunque il tempo si trova perché quello che tu metti nella tua bocca lo decidi e lo scegli tu e non mi puoi venire a dire che ti vedi la pelle grigia quando ti fumi un pacchetto di sigarette e ti fai due mojito tutte le sere che esci perché è normale che la tua pelle sia grigia cioè il risultato poi è quello ma non significa che io faccia una vita morigerata non significa che io cioè queste scelte che io faccio non sono per me delle privazioni cioè io questo è quello che voglio sempre spiegare e che a me mangiare del farro con delle lenticchie dei broccoli bolliti a me dà soddisfazione a me piace più di un osso buco con il riso con una quintalata di burro che ne so poi se sono in montagna e c'è il goulash lo assaggio se sono da mia nonna Maria Riccione che mi fa le tagliatelle ragù le mangio però nella mia quotidianità cerchi di avere delle regole io stesso quando sono da nonna Berni a casa che è mia mamma chiamata così perché lei fa da mangiare per tutti però quando sono lì ieri sera sono arrivato a casa aveva fatto le sfrappole ma certo che le mangi poi ho usato alcune mie strategie l'abbinamento proteico eccetera e le ho mangiate senza nessun tipo di problema ma soprattutto senza sensi di colpa assolutamente perché poi è quello perché come scrivo nel mio primo libro che tu hai nel mio primo libro le seghe mentali fanno ingrassare si fanno ingrassare in più poi hai bisogno dello psicologo poi hai bisogno perché poi si innesca tutto si innesca tutta una serie di meccanismi anche fisiologici e quello che dicono le tue amiche sono tutte scuse depotenzianti pensavo di averle esaurite col primo libro invece anche nell'ultimo libro le ho scritte perché se ne inventano sempre nuove per fare in modo di non fare o di giustificare ciò che noi non riusciamo a fare è un po' naturale fare questo però si arriva a fare tutto se si vuole perché ingrassare cioè non è che le persone ingrassano o dimagriscono facendo attività fisica l'attività fisica che fa dimagrire di più di tutti è quella che noi facciamo con la forchetta e il bicchiere quindi prima dovrai curare quello tu parli di integrazione perché curi l'alimentazione cioè dalla gente che spera nella pillola magica non è così prima io devo curare l'alimentazione poi ci metto in movimento poi penso anche all'integrazione allora certo che ottengo quello che realmente mi sono prefissato però nulla si può sostituire no ma poi pensano sempre in questi miracoli di mettersi in forma a maggio per la prova costume di giugno cioè tu devi pensare di stare in forma per te stesso tutto l'anno cioè devi pensare di arrivare ad affrontare una menopausa se sei una donna fra i 45 e i 55 in un certo modo e anche lì ti devi preparare non puoi pensare di gestire una menopausa quando sei nel pieno della menopausa e lì ormai il gioco è fatto la prevenzione primaria che ci raccontano da anni e nessuno fa e nessuno anche in ambito devo dire in medico spesso non ce la insegnano no in effetti bisognerebbe che ci si rieducasse alla salute cioè dovremmo un attivo io dico sempre che dobbiamo fare della nostra salute il nostro hobby sì che dovrebbe avere un tempo anche prioritario all'interno della nostra giornata che tu giustamente crei una routine e quindi è quello assolutamente perché poi i risultati li vedi e quando tu stai bene funziona tutto meglio non c'è niente da fare dormire bene anche lì dormire abbastanza ore e anche lì il sonno è importantissimo è importantissimo la gente non se ne rende conto una cosa che invece mi incuriosisce è che tu comunque fai delle tourne teatrali adesso appunto fiori d'acciaio mi odiano tutte eccetera cioè come gestisci l'alimentazione quando sei in tournée perché insomma adesso sei in giro con fiori d'acciaio quando sono in giro per lavoro giro sempre con la schiscetta quindi io treno aereo tiro fuori la mia scatola dove ci sono sempre dentro carboidrati verdure e proteine e mangio sei il mio idolo me ne frego di quello che possano pensare gli altri perché di mangiare il tramezzino trovato in treno piuttosto che di andare al ristorante sei su sette magari anche no chi dice ma dai è probabilmente una persona che è già stata sconfitta ma come hai fatto a trovare il tempo stamattina no gli avanzi di ieri sera ne ho fatti un po' di più così non devo sprecare che c'è una programmazione elettricità non devo sprecare di riscaldare di cucinare gli ho fatti un po' di più e stamattina avevo il pranzo pronto per oggi il problema è quando si va quando lavoro a teatro non riesco a cenare prima della recita dopo quindi mangio dopo e significa che mangi verso mezzanotte quindi non riesco ad andare subito a letto mio marito mi ha attaccato poi questa routine una in più di fare il giro del quartiere per digerire prima di mettersi su un divano piuttosto che a letto perché in effetti aiuta molto sulla digestione e anche sulla glicemia ah sì questo non lo sapevo uno studio dimostra che 5 quindi capisci le scuse delle persone 5 minuti di camminata che vuol dire niente dopo il pasto aiutano a stabilizzare molto di più la glicemia questo anche sui diabetici figuriamoci sulle persone che non hanno problematiche quindi quando sono fuori in tournée ecco cerco magari di evitare cibi troppo pesanti la sera perché poi dormirei male il mio pasto preferito è la colazione cioè la mia colazione è un rito nel senso di mangio tante cose a volte salata a volte dolce sempre bilanciata con le proteine però ecco anche in tournée dove mi posso svegliare con più calma magari faccio colazione verso le 10 10 e mezza perché comunque va da letto più tardi però anche lì non ho mai saltato in vita mia una volta la colazione per me è proprio ma e poi è un pasto all'inizio della giornata il corpo riceve un segnale rimette a posto i propri ritmi circadiani quindi è assolutamente corretto hai fatto con tuo figlio Pechino Express e a casa hai un campione dello sport come tuo marito un'altra curiosità che ho io è fate la stessa alimentazione o fai menù diversi allora io Alessandro che è per tutti i billi mangiamo allo stesso modo anche lui senza carne poco pesce anche lui quindi tante tante ecco noi mangiamo tantissime verdure cucinate in vari modi seguendo sempre la stagionalità però o al forno o bollite o sotto forma di passati di vellutate o in tipo hamburger vegetali cioè tanto Achille ovviamente di questi menu non ne vuole proprio sapere quindi diciamo che è più giovane sì e poi è sempre stato inappetente potrebbero chiudere i supermercati per mio figlio non gli ho mai sentito dire in 19 anni mamma ho fame e questo è un grosso problema che ci mette in conflitto perché io ancora adesso patisco molto il fatto che lui mangi poco e quindi dopo lui si scoccia quando glielo faccio notare perché comunque è sempre la mammina che controlla è una dinamica infernale anche se gli dici cose giuste tu non sei nella posizione per poter dire niente è una dinamica infernale abbiamo provato con integratori abbiamo provato però già da quando era piccolo io mi ricordo che lo aspettavo all'uscita dell'asilo con il biberon anche se ormai era cresciuto con i buchi grossi così fatti con la forchetta dove dentro c'era latte omogenizzato di frutta biscotti un uovo mi facevi un gainer sì un booster pazzesco mi facevi un gainer per vedere se un booster pazzesco tre ciucciate e io ero a posto con la coscienza lui aveva mangiato diseducativo lo so però per noi mamme italiane se tuo figlio non mangia è come tirarti una coltellata e poi figli di generazioni antecedenti che in realtà ci hanno insegnato che nel piatto non si lascia niente che tutto quello che prendiamo poi va mangiato perché se no ci sono i bambini che muoiono di fame cioè il tema è questo oggi la popolazione è totalmente diversa oggi c'è gente che muore per eccesso di cibo moriamo per eccesso di cibo non per malnutrizione sì da noi Martina abbiamo capito tantissime cose da questa puntata della tavola con Iade una cosa che io sicuramente ho capito è che tu hai una buona cultura in ambito di salute di strategie di abitudini hai già individuato anche i dialoghi le scuse dei potenzianti che magari senti quindi ti faccio i complimenti perché comunque tu hai un'ottima cultura sia in ambito nutrizionale ma anche quello che può essere di strategie per salute benessere e longevità sana detto questo stasera cosa si mangia? allora stasera non lo so ti dico cosa ho mangiato a pranzo? va bene ok ho mangiato il cavolo romanesco romano poi ho mangiato se no si buttava via la bresaola anche se non l'amo non amo gli insaccati però le proteine mi piacciono di bufala non lo diciamo troppo forte e del pane con dei semi buonissimo e quindi io abbino anche proteine differenti cioè nel senso carne io ho fatto un video dedicato le proteine ad oggi non esistono non esiste letteratura che ci sconsiglia di fare questa cosa a colazione ho mangiato un kefir dell'ananas e pezzettino di torta del mele fatta in casa del caffè e prima ancora dell'acqua e limone caldo direi perfettamente in equilibrio io ti ringrazio di essere stata mio ospite e ne sono davvero onorato grazie grazie a voi a te ti è piaciuto questo video allora iscriviti al mio canale youtube e in più lasciami un commento sotto il video perché voglio sapere cosa mangerai questa sera mi raccomando è importante grazie a tutti Grazie a tutti.